Dopo giorni di apparente calma, il mare davanti alla Libia ha oggi tornato a popolarsi di gommoni e barche cariche di migranti in fuga dall'Africa e dai campi di detenzione di Tripoli. 800 persone salvate, due cadaveri recuperati, e, in mezzo, un nuovo scontro tra la Guardia Costiera Libica e Leong. La denuncia arriva da nave Aquarius, l'imbarcazione di SOS Mediterranea e su cui opera un team sanitario di medici senza frontiere. Attualmente in missione nel Mediterraneo centrale. In un tweet, i volontari della ONG fanno sapere che stamattina erano stati inviati dalla Sala Operativa di Roma, sul punto in cui c'era un gommone carico di migranti ma, giunti in zona, hanno ricevuto da parte di una motovedetta libica l'ordine di non avvicinarsi. Siamo stati testimoni di un'altra intercettazione della Guardia Costiera Libica in Acque. Internazionali scrive SOS Mediterranei sentivamo urla e richieste di aiuto provenire dal gommone in difficolt ma i libici ci hanno ordinato di allontanarci. Secondo Medici Senza Frontiera a distanza di 100 metri un team di MSF ha visto i volti delle persone e ascoltato le loro urla ma ci stato impedito di assisterli. E l'ennesimo episodio. E le ONG denunciano che quelli della Guardia Costiera Libica non sono salvataggi perci migranti. vengono riportati indietro nei campi di detenzione. 800 migranti salvati in mare. Almeno due morti. Ed è scontro ONG e Guardia Costiera Libica perre tutta la giornata. La Guardia Costiera Italiana ha coordinato una serie di salvataggi. Cinque in tutto. Con cui sono state recuperate nel Mediterraneo centrale circa 800 persone che si trovavano su due barconi, due gommoni e un barchino. E' intervenuta una nave militare del dispositivo e una forma di operazione Sofia. Una motovedetta della Guardia di Finanza e le tre imbarcazioni delle quattro ONG ancora presenti in zona. Toccato proprio all'Aquarius recuperare anche i due morti. La gente era G in acqua. 83 sono ora salvi ma non stato possibile rianimare due donne che lasciano orfani i due bambini. I volontari ritengono che anche altri migranti siano morti annegati. E tra loro alcuni bambini. Sette di loro sono stati invece salvati. Avevano ingerito grandi quantite di acqua e di mare. Vista la gravite delle loro condizioni. Sono stati prelevati da due elicotteri della Marina Italiana e trasferiti d'urgenza a Sfax. In Tunisia. Come informa un comunicato della Guardia Costiera Italiana. Quando ci siamo avvicinati racconta Klaus Merkle. Coordinatore SAR di SOS Mediterranea e il gommone era G sgonfio da un lato e c'erano persone in acqua. Alcuni avevano gi perso conoscenza a Caundo sono stati recuperati. Altri salvataggi sono stati fatti dai tedeschi di Sea-Watch e dalla nave Open Arms della Ong. Spagnola Proactiva. Quest'ultima ha recuperato oltre 300 migranti che erano su una barca in legno appesantita dal numero di persone e dall'acqua che stava imbarcando e lì ha poi trasferiti su una nave militare. imbarcazione in pericolo in un'area di 265 chilometri. Lo dico per quelli che sostengono che noi facilitiamo il traffico di esseri umani. ha commentato il fondatore di Proactiva Open Arms, Oscar Kamims, e in territorio libico, l'alto commissariato per i rifugiati dell'ONU. UNHCR. Ancora ieri aveva trasferito in Niger altri 134 rifugiati. Nell'ambito del piano di rimpatri cui partecipa anche l'Italia.